Bene, barba doccia finita, sto uscendo, vado a prendere Ruben, Dario, il suo compagnetto, Denise e poi spedito alla villa, ma prima ancora di fare questo devo andare a prendere la macchina e dopo sono da te amica, tutto improvvisato, non c'è un copione, come dicevo prima agli amici. Ciao!